Va bene così Benvenuta, oggi sarà fotografa per un giorno Io questa cosa del fotografo l'ho sempre sognata Ho fatto tutt'altro però mi sarebbe piaciuto Infatti le mie amiche mi prendono tutto in giro Perché ogni volta per me la foto prima di tutto Ed effettivamente la foto è un po' tutto Nella vita il ricordo più bello Quindi mi sarebbe veramente piaciuto Lo faccio veramente con piacere Allora, andiamo Prima di tutto le luci Le luci devono essere posizionate sul quadro Normalmente quando si faccia un quadro si posizionano a 45 gradi Adesso proviamo a fare lo scatto Come mai non scatta? Perché è spenta Quindi bisogna cera Ok, adesso cosa succede? Che la foto è un po' distorsa Quindi bisogna cercare di avvicinarla con lo zoom Non è proprio colpa mia Se è nato il quadro Esatto Allora, la scheda la inseriamo dentro Per fuori Per fuori Così Guarda dentro Non è venuta male Eh, non è venuta male Sì, anche fatta anche come luce Dai, va bene Sì, adesso andiamo un po' a ritoccarla Vediamo un attimino come si può ritagliare Reinquadrare Per essere la mia prima foto Sono soddisfatta Siete lo scatto Che regalate al mondo La nostra regione Grazie Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti.